Ho pensato a una valigia perché dentro una valigia ciascuno pone le proprie speranze, le proprie aspettative di vita o di una vita migliore, però purtroppo il tempo passa e i soldi vengono spesi e non si arriva mai al dunque, quindi la valigia invecchia diventa brutta, consunta e la vita passa e purtroppo difficilmente c'è un giocatore che chiude la valigia, la butta da una parte e va avanti, non se ne rendono quasi a volte nemmeno conto di parlare con qualche giocatore, non si rendono conto di avere un problema e le cifre che investono sono parecchie, però voleva proprio rendere l'idea del consunto, del vecchio, l'ho ritrovata a Napoli e scavando sotto i grattevinci si può trovare la scritta Hell in un buco nero o l'ho trattata in questa maniera, ho dipinto l'interno, c'ho scritto l'inferno personale di ciascuno di questi giocatori purtroppo, tutta piena di questi grattevinci non vinti, accartocciati e buttati, purtroppo è una dipendenza e è bene che se ne parli perché non se ne parla abbastanza.